Hanno svuotato le stanze di un immobile comunale del centro storico adibito da archivio e lo hanno occupato abusivamente. È accaduto ieri pomeriggio a Biceglie quando due persone, una bicegliese ed una di Trani, hanno svuotato la struttura da documenti e faldoni lasciandoli per strada davanti all'ingresso dell'ufficio tecnico del comune alle spalle di Palazzo di Città. Entrambi i soggetti di circa 40 anni e già noti per la loro condizione di emarginazione sociale senza fissa dimora sono stati denunciati dagli agenti della polizia locale di Biceglie per occupazione abusiva dell'immobile. In realtà, spiegano dall'ente, i due erano già stati denunciati una settimana fa. Solo uno dei due svolgerebbe saltuariamente il lavoro di addetto alle pulizie, l'altra persona invece non avrebbe una occupazione. Entrambi sono stati in passato presi in carico dei servizi sociali comunali vivendo per un periodo di tempo prima in un BNB messo a disposizione dal pronto intervento sociale e poi in una struttura della Caritas Diocesana. Ieri pomeriggio immediato l'intervento per recuperare tutti i documenti lasciati in strada che sono poi stati depositati in altri uffici comunali. Avviate anche le procedure per liberare l'immobile.